Chi compra questo libro capisce tante di quelle cose di cui vi tengono all'oscuro, che voi non immaginate neanche amici che siete a casa. Sul sito francescomodeo.it, purtroppo lo ricordo sempre perché è l'unico modo per acquistare la Matrix europea. Chiudi tu adesso. Sì, chiudo leggendo pagina 3 un'intervista del mattino di oggi. L'attuale assetto dell'Unione Europea non ha funzionato. Dobbiamo rimettere in discussione i meccanismi e superare l'Europa dell'austerity per costruire quella dello sviluppo e del lavoro. Una cosa è distruggere e una cosa è cambiare dall'interno ed essere più forti. Chi l'ha detto? Salvini, Di Maio, Lameloni? No, e Zingaretti. Questo vi dimostra che chiunque vi dice che vuole cambiare l'Europa dall'interno sta portando avanti l'idea di chi vuole distruggere questo paese e da chi l'ha fatto dal 1992 ad oggi. Grazie a tutti.